Siamo con Gianpietro Chiamenti, presidente nazionale FIMP, Federazione Italiana Medici Pediatri. Presidente, parliamo di vaccini. In Italia è una questione aperta almeno in tre settori. Parliamo di meningite, papilloma virus e autismo, partendo proprio dalla meningite. La meningite meningococcica, sappiamo che il meningococco B è responsabile di oltre 6 casi su 10 di meningite meningococcica in Italia. E che i bambini più piccoli sono i più esposi a questa malattia, la cui diffusione sembra essere ampiamente sottostimata. Ci può dare un quadro epidemiologico che ci faccia capire la gravità della situazione? Malattia sicuramente grave e problematica perché fra le meningite è quella che più rapidamente può mettere a rischio il bambino di vita. E comunque lascia reliquati ed esiti che poi dopo diventano pesantissimi. Per cui avere un vaccino a disposizione è una cosa molto buona e diciamo che il merito è che è stato anche prodotto in Italia ed è strano che il nostro paese che l'ha prodotto non l'abbia già adottato nei suoi calendari in tutte le realtà. Solo in alcune regioni hanno già incominciato a offrirlo attivamente alla popolazione. Pensate che sarà gratuito? Lo speriamo fortemente come pediatri perché sicuramente la meningite B è quella più temibile e quindi l'auspicio è che rapidamente venga adottato in tutte le realtà regionali. Parliamo invece di autismo. La procura di Trani ha nominato un pool di esperti per indagare il presunto legame tra somministrazione del vaccino trivalente raccomandato contro morbillo, rosolia e parotite e insorgenza di disturbi dello spettro autistico e diabete. Lei cosa ne pensa? Che è scandaloso che se ne debba parlare ancora. Che crea disorientamento presso la popolazione. Che è assolutamente fuori luogo temere che il morbillo possa in quanto vaccinazione indurre rischi di questo tipo. è scandaloso che noi siamo ancora qui a discutere della relazione tra la vaccinazione contro il morbillo e l'insorgenza dell'autismo. La letteratura a livello mondiale in più riprese, in più lavori è assolutamente negato che ci siano queste relazioni. Che poi siano i giudici che portano in attualità il problema di fronte alle famiglie creando il panico è assolutamente disdicevole per l'importanza che ha questa vaccinazione. Infine il papillomavirus, adesso l'attenzione è rivolta anche ai maschi. Come fare per vincere i tabù dei genitori? Beh, la grossa novità della vaccinazione contro il papillomavirus è l'estensione anche ai maschi appunto perché ci sono dei problemi legati ai condilomi, dei problemi tumorali e poi perché i maschi contribuiscono alla diffusione del virus e le vaccinazioni devono essere anche finalizzate al controllo della diffusione dei virus. Che questo ormai sia nell'ordine delle cose, anche nel calendario per la vita è stato introdotto questa possibilità diciamo che è una nota di merito, non è ancora ufficialmente adottato in tutte le realtà e con questo non bisogna perdere di vista che il bersaglio maggiore di questa vaccinazione sono le femmine e che le percentuali tuttora di copertura delle femmine sono piuttosto al palo. Ragioniamo di buone percentuali oltre il 60% ma la speranza era di arrivare al 90-95% proprio per l'importanza che ha prevenire un'infezione così grave come quella da papilloma che si sa creare problemi come il tumore all'utero che è la seconda causa di morte di tumore in Europa.